Perfetto, se puoi parcheggiare lì? Ok Va bene Avremo bisogno del bagagliaio Sì, non c'è niente Se lo puoi aprire, ti serve la chiave E ti chiedo di rimanere qui e di osservare attentare Ok? 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 Sotto chiave? No, è proprio tardi Ma cosa è possibile? Non vado a dire che si libera sia bene Ma che si vede? Ma come avete fatto? Guarda, i nodi sono ancora in tanti Ma avete rotto la macchina? No, guarda, con prola E questo è il campionato? Sì Grazie veramente Grazie a tutti